Ed ecco un nuovo anno che se ne va con i suoi attimi tristi ma anche felici perché qualcuno ha passato tanti attimi particolarmente belli e non vede l'ora che arrivi la mezzanotte così da viverne ancora uno grande. C'è poi qualcuno che non vede invece l'ora finisca perché ha lasciato che qualcosa di particolarmente brutto glielo rovinasse e la mezzanotte la attende perché vuole ricominciare e vuole farlo con un sorriso. Io non so a quale delle due categorie apparteniate ma so che qualcosa vi accomuna ed è la speranza nel 2015 ancora migliore. Voglio ancora dirvi grazie. Grazie a chi ha contribuito a rendere questo 2014 così fantastico perché di momenti particolarmente brutti ne ho passati molti ma con i vostri sorrisi è stata molto più facile superarli. Ed è proprio con un sorriso che saluto questo anno. Lo faccio per dirvi Buon 2015 Buon 2015